DS Automobile è presente al Salone di Parigi 2016 con uno stand inedito all'insegna dell'eleganza, uno stand che propone un percorso per immergersi nell'universo DS. Si parte dalla storia, dall'heritage di DS Automobile, da cui DS attinge i valori di eccellenza, innovazione, tecnologia e cura del dettaglio. Nella zona del savoir-faire sono a disposizione degli artigiani che lavorano le pelli, esattamente come fanno quotidianamente presso il centro stile, le pelli che poi vanno a rivestire gli interni delle vetture DS. Un esempio di tailor-made è la DS5 Comanda Special. Rientra in un programma specifico rivolto ai clienti che desiderano personalizzare la propria vettura, proprio come fosse un abito tagliato su misura. E questa DS5 appunto ne è un esempio, proprio perché la personalizzazione fa parte del DNA di DS Automobile. Intorno a DS e i Tense è possibile immergersi nell'universo DS. In particolare parliamo di Only You, un pacchetto di servizi destinati ai clienti DS e che rappresentano dei servizi di mobilità o dei privilegi che oggi sono attivi in Francia e che poi successivamente verranno attivati anche negli altri paesi. E infine DS Automobile ha un'anima sportiva, per cui qui presenta sullo stand in anteprima la Performance Line, che è la linea sportiva distintiva e dinamica che appunto coinvolge tutta la gamma, quindi DS3, DS3 Cabrio, DS4 e DS5. Realizzata dall'equipe DS Performance, che è la divisione sportiva di DS Automobile, che ogni giorno lavora e realizza ricerca e sviluppo per questo tipo di vetture che poi vengono applicate anche alla gamma commercializzata tutti i giorni.